Il grazie di Papa Francesco alla Polizia di Stato. La vostra è una presenza discreta ed efficace a servizio della persona, ha detto Bergoglio, ricevendo i dirigenti e il personale dell'Ispettorato di Pubblica Sicurezza presso il Vaticano. Dal Pontefice anche un ricordo per i poliziotti morti a causa del Covid. Grazie per la loro testimonianza, ha detto Papa Francesco. Sono andati via nel silenzio, nel lavoro. Ricordiamoli sempre con gratitudine. Istituito nel 1945, l'Ispettorato di Pubblica Sicurezza presso il Vaticano ha il compito di garantire la sicurezza di Piazza San Pietro e dei Papi nei loro spostamenti sul territorio italiano. La pandemia, ha detto il capo della Polizia Lamberto Giannini, ci ha spinto a coniugare meglio il nostro compito di tutori della legalità con il bisogno di umanità che arriva da tanti cittadini disorientati, soli e in difficoltà.